Ciao, siamo il gruppo di giovani di azione cattolica di Santa Maria, ricononata di Costantinopoli di Avellino. Vieni, ti racconto una storia. Ci troviamo lungo la strada Corso Umberto I, già via Costantinopoli, che da ogni anno, da ben 21 anni, il 12 agosto ospita il nostro Palio della Cotte. Il Palio della Botte è una tradizionale rievocazione storica celebrata nella nostra città di Avellino. Secondo le fonti, già a partire dal Cinquecento, veniva celebrata proprio qui, in onore del Palio di Caracciolo, una gara cosiddetta della Botte, durante la quale i partecipanti, provenienti dalle nostre sette contrate, si sfidavano nel tirare una botte pesante circa due quintali, usando soltanto una mazzeria. Le contrade sono Terra Bellezze Porta Napoli Porta Beneventana Tuoppolo Parco del Principe E Porta Puglia Città Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ba Il palio della botte è anche il palio della solidarietà. La gabbia della restituzione, che contiene il premio per la contrata vincitrice da devolvere alle famiglie più disagiate, sfila per le strade del centro storico. Vive così l'antica solidarietà, rappresentata dal Monte di Pietà, che nel Cinquecento sorsa da Avellino in corso Umberto I, proprio nei locali adecenti alla chiesa di Costantinopoli. Col progetto Tutti in Palio, vogliamo restituire alla nostra città proprio l'antico Monte di Pietà. Come Museo del Palio e di quell'antica solidarietà per realizzare laboratori creativi, iniziative culturali ed eventi per tutti. Grazie alle nostre amici, Tutti in Palio!